ciao ragazzi bentornati sul canale oggi sabato sto preparando il gelato per questo evento a bologna al distritto dumbo ovvero mi hanno chiesto di andare col carretto e di portare del gelato qui come vedete ho tutte le preparazioni lo sto iniziando a mantecare oggi intanto che la gelateria aperta quindi magari vi porterò un video dove vi faccio vedere anche un po il carretto un po di stretto dumbo che è una cosa figa ci sarà vino chilo la vendita di vestiti vintage e back to the wine quindi fiera del vino intanto sto mantecando la panna per il negozio vorrei far vedere un po di cose porterò otto gusti anche stavolta tra cui la figna colada veramente figo dove c'erano tutti i treni quindi dei cappannoni bellissimi di pietra sto iniziando a fare preparazioni quindi vi farò vedere un po magari il tutto spero di farvi vedere il carretino ma di farvi vedere il distritto dumbo veramente figo ora continuo la produzione della crema della crema bolognese guardate che setosità portato un bel banco anche stavolta speriamo di divertirci ho già fatto una scorta delle migliori cialde di bologna minora vita storica dal 1937 avevo fatto un video su di loro ma purtroppo loro mi hanno chiesto di eliminarlo dal canale ero nei primi video fa lo stesso continuo le preparazioni come vedete anche qua bella mandorla d'avola con limone mandorla salata un bel pistacchio e sto continuando a fare tutte le mie varie preparazioni mandorle vere appena tostate da me sottovuoto per mantenere il sapore mi raccomando limoni veramente fighi profumati ore 22 ho finito questo giorno interminabile è stato bellissimo sono venute tantissime persone ad assaggiare il mio gelato naturale ho appena finito di preparare i gusti per l'evento di domani e come vedete ho già preparato qualcosina ora ho fatto anche dei waffle vado a casa mi lavo carico il carretto dei gelati e poi dopo ci vediamo domani non so neanche che faccia buongiorno a tutti a parte la voce che non ancora presenta lo prenderà sono arrivato a dumbo come vi diceva era su dei vecchi stabilimenti veramente fighi ci sono solo io lì ci sarà la fiera di giro quindi vestiti vintage e qui ci sarà la fiera di back to the wine io dovrei essere esattamente o la oppure mi faccio mettere sotto l'olivo molto figo e niente la la figata di questo posto che lo stanno tutto recuperando petti da basket insomma tutto veramente figo lì si può mangiare ecco qui allestito e andrea oggi abbiamo l'aiuto di una super chef fatti vedere hai detto che vuole andare su youtube ti metto su youtube super aiuto ci hanno fatto spostare dalla che eravamo all'ombra ci hanno messo qua che c'è solo del sol banana al volo vabbè gelato naturale c'è solo c'è solo c'è solo ragazzi siamo a martedì giorno di chiusura io chiaramente sono qua dentro a sistemare tutto il casino che domenica al Dumbo è andato alla grande per il back to the wine è venuta tantissima gente anche i miei clienti è stato fighissimo ci siamo divertiti ho avuto degli aiutanti ottimi quindi grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato come vedete devo proprio domani si riparte quindi spero che vi sia piaciuto il video abbiate visto un'area di bologna che la trovo veramente fantastico se avete voglia di chiamarmi a qualche vostro evento scrivetemi sarò ben contento se riuscirò a venire mi raccomando quello che dico sempre lasciate un like seguitemi sul canale attivate la campanellina così vedrete tutti i video nuovi che usciranno e se siete a bologna venite a mangiare il gelato naturale da me ora finisco di sistemare al prossimo video è giusto perché non ci dobbiamo far mancare niente ragazzi il mio unico e dico unico perché io uso solamente un frigorifero mi ha lasciato al momento ho messo tutto nella vetrinetta sperando che vada perché anche lei col caldo stava iniziando avere dei problemi niente ce n'è sempre una ci vediamo alla prossima